Certamente oggi anche in Italia l'attività di lobbying non è più vista con sospetto come qualcosa di collaterale di cui non ci si deve troppo fidare, i lobbisti non sono più dei loschi figuri che si aggirano nelle stanze, nei corridoi delle attività parlamentari, ma sono dei professionisti che conoscono bene la materia e che aiutano il legislatore o il decisore a prendere la decisione migliore, ovviamente portano una delle posizioni, la posizione della propria azienda o del proprio cliente, però tutto questo avviene con maggiore trasparenza da un lato e maggiore anche professionalità da parte di chi opera nell'ambito della lobby. Il modello americano nasce da molto lontano, è stato il primo paese a aver introdotto e regolamentato la lobby e quindi forse si può permettere in questo stato evolutivo anche delle sanzioni per chi trasgredisce, perché è dentro il sistema della lobby. Io credo che l'Italia oggi farebbe già dei grandi passi in avanti se riconoscesse e si adeguasse a un sistema europeo, quindi un sistema di regole deontologiche, nella legge italiana presentata dal Ministro Sant'Agata c'è un albo, credo che le sanzioni che pur forse in un certo momento dovrebbero arrivare, oggi forse sarebbero ridondanti e farebbero forse non fare passi avanti al sistema dei lobbysti, ma anche dei decisori che devono abituarsi a confrontarsi con i lobbysti e quindi sarei più per la gradualità. È un sistema regolamentato, è un sistema che aiuta innanzitutto perché dà un riconoscimento all'attività di lobbying che come dico è molto cambiata, però ancora ha delle zone d'ombra nel suo riconoscimento. L'avere un albo, l'avere una regolamentazione, il rispettare dei codici deontologici alla fine portano sicuramente a un'affermazione di questo mestiere così particolare, così nuovo, nuovo per modo di dire perché poi il lobby si è sempre fatto, forse dall'antica Roma in giù, però è fatto in maniera moderna, quindi credo che le aziende hanno solo da guadagnare, sia le aziende con la sua truppe di lobbysti, sia le società di consulenza che ovviamente lavorano per un committente che spesso è un'azienda o un gruppo di interessi. Il mio è un ruolo molto di coordinamento e di lobby ovviamente di più alto livello, però se calcolo il tempo della mia direzione, di guida della mia direzione che è, come ricordo, riguarda tutti gli aspetti delle relazioni esterne, quindi dalla comunicazione alla lobby, finanziaria e internazionale, direi che forse siamo intorno al 55-60%, perché gli interessi dell'azienda sono ovviamente molto forti, noi noi abbiamo anche un'azienda un po' particolare, l'Enel è un'azienda che opera in regime concessorio, che tutte le sue attività industriali sono attività che richiedono autorizzazioni, che richiedono passaggi presso i ministeri per approvazioni di valutazione di impatto ambientale, piuttosto che di altri tipi. In più è un mercato regolamentato, il mercato elettrico, da un'autority, quindi se vediamo ogni passaggio a nostra azienda ha un qualche intervento o legislativo, o decisorio, o amministrativo, di ministeri centrali o di governi locali. Quindi l'attività lobbistica è veramente importante per poter trasferire gli interessi dell'azienda per un pubblico così ampio. Cambierà molto il modo di lavorare perché cambiano le istituzioni, cambia il modo di intendere il rapporto tra impresa e istituzioni. Sempre di più il lobbista non è un qualcuno che si occupa solamente della proposta tecnica rispetto agli interessi della propria azienda o della propria organizzazione, politica, ma sempre di più ad essere una persona che capisce l'agenda politica, capisce l'agenda anche comunicativa del momento e sa inserirsi con la proposta più utile alla propria azienda nel contesto dato. Come in tutte le cose, delle proposte buone di un momento sbagliato non passano e così anche in attività di lobby. Quindi la capacità non è solo quella legale di scrivere un emendamento politica, di conoscere il parlamentare, il ministro politico, ma è anche di capire il contesto in cui tutto questo opera e questo utilizzando ogni leva della lobbying, quella politica nei confronti del decisore in one to one, quella di relazioni esterne attraverso i media che possono fare una pressione di interesse dell'azienda verso il decisore politico, quella di creare quel contesto positivo verso la proposta che si vuole portare e che quindi convinca in vari modi il decisore che la strada che propone il lobbyista è quella buona. Le grandi aziende sono ovviamente molto strutturate e quindi hanno spesso in casa tutte le capacità per andare a fare il lobbying nei diversi ambiti della decisione pubblica, pensi alle regioni, ai comuni, al Parlamento. Ci sono dei casi nei quali la consulenza è molto più utile alla multinazionale che non ha strutture importanti nel paese o alle piccole e medie aziende, però ci possono essere anche dei progetti che come dico comprendono magari in maniera più completa non solo l'attività di lobbying one to one con il parlamentare o il decisore, ma che richiedono una strategia, una conoscenza del territorio, una conoscenza del contesto molto più ampia nella quale il consulente può avere un know-how che l'azienda non ha. Mi riferisco a singoli progetti, uno deve costruire una centrale in una regione e magari in quella regione le sue forze sono deboli perché ha tanti tecnici, non ha nessun lobbyista, nessun esperto di relazioni esterne, allora lì il supporto di una società di consulenza può essere vincente. Siamo già in un passo oltre, non serve solo la società che ha un know-how lobbistico perché ha una bella rubrica telefonica con nomi importanti dei decisori, serve anche un approccio intelligente e di conoscenza del contesto affinché non sia un passacarte dell'esigenza delle aziende verso un interlocutore, è pure importante che si conosca, però non basta più quello. L'importante è anche capire il contesto, capire i tempi e come ho detto arrivare al momento giusto con la proposta giusta spiegata nel modo giusto. Io non vedo questo contrasto tra l'interesse nazionale e la somma degli interessi particolari. ovviamente il gioco deve essere fatto con le regole, deve essere fatto con trasparenza, ma spesso c'è una carenza informativa nel legislatore o nel decisore quando deve prendere una decisione e quindi credo che fa un bene del Paese se nella sua decisione libera, autonoma, tiene in considerazione gli interessi che gli vengono portati da gruppi di aziende, dalla singola azienda, da gruppi di interesse, perché in un sistema moderno la lobby non è solo in mano alla singola azienda o al sistema delle imprese, fa lobby anche Greenpeace, fa lobby anche Save the Children, fa lobby anche il Vaticano, ognuno a suo modo deve portare i propri interessi. Il dovere del legislatore è mettere in stima di questi interessi e trovare il bene comune nella sintesi dei singoli interessi.